Ma come sarà provare l'Orbea Orca qui al circuito di Misano? Lo scopriamo dopo la sigla! Ci troviamo nel circuito di Misano a provare oggi l'Orbea Orca, il loro cavallo di battaglia per quello che riguarda le bici da strada. Ora facciamo un bellissimo test, la proviamo in velocità ma soprattutto voglio vedere come spinge. Sei pronto? Via! Dico, ma che bici fantastica è l'Orbea Orca! L'ho provata qui nel circuito di Misano proprio per vedere le sue mitiche caratteristiche e mi hanno lasciato veramente sorpreso perché è una bicicletta molto scorribile. Ma oltre alla sperevolezza che ha questa bici, grazie alle ruote Orco di Carbonio sempre della casa di Orbea, la sua leggerezza nel telaio ha una risposta immediata ma molto efficace sulla pedalata. Quindi l'Orca è una bici per chi ama le alte velocità e soprattutto per chi ama la salita. È una bicicletta che come ti metti in piedi sui pedali lei scatta. Ora che l'ho provata non ho più voglia di scendere, voglio girare fin quando non sono sfinito. Immagina di essere qui a Misano a fare una gara e negli spalti pieno di gente. Il tifo in delirio quando si passa in fuga. Ma che emozione è! Finalmente andiamo a scoprire la orca che ho utilizzato qui a Misano all'Italian Bike Festival. Questa è la orca che ho provato, una bici full carbon con componentistica Shimano Ultega elettronico. In più questa bici monta le ruote Oco, sempre della casa Orbea, con mozzi zip. La bici e queste ruote si sposano così bene per renderla una perfetta bici molto molto scorrivole. Una bici agilissima e scattante anche in salita. Questo grazie alle sue nuove geometrie che Orbea ha presentato in questa bici. E purtroppo anche tutte le gare hanno il loro finish. Ritorniamo ai box. Stiamo rientrando ai box, ma mi raccomando, se questo video ti è piaciuto non dimenticarti di lasciare il like. Iscriverti anche al canale per non perderti nei prossimi video. E noi come sempre ci vediamo nelle prossime puntate. Iscriverti anche al canale per non perderti nei prossimi video.